Oh Grazie a Dio Ma che stai? Poi sotto proprio Oh attento! Pensavo di far presire l'altaplane Ti sei cagato addosso Mi sono amato bravo Per una volta che c'hai dato a me ti stavi suicidando Per Dio santo perché ti stai in mente? Oh 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 Eccoli Eccoli Qua dietro sta casa Soprendiamo il garbaccio Andiamo a ricaricare C'è dietro un altro team eh Cazzo Fatuno Giusto due schicolpi Il 3 ti sento Non ci rendi di conto Cosa? C'è ma sono il 3 eh No No però Chi cazzo sono? Sono in due che ti sparano dalla piattaforma aerea Questi due E' un altro è uno Cioè in pratica ti stanno cercando di ammazzare in cinque Solamente Oh Prendi con l'altro vitro Oh Vabbè Prendi con il muro Trappalo Trappalo Non ce l'ho Ah Vabbè Cioè vabbè Ancora delle skin da cazzo Ancora Oddio Oh Troppi Fra ma quanti sono che ti vedono solo te? Troppi fra Continuita per il timore Continuita per il timore Quando ho coltino il soggetto ero c'è il piccone veramente bravo è che era un till cancer 8 prendi col medikit che non si sa mai 2 oh ma sei 1v4 buono la partita di questa non l'ho mai vista buono quello maron mi mancano due però sono due di diversi team se non erro cazzo vera sei fin sicuro parte partite dopo tanto che uno non gioca mamma mia c'è caccia che mi sparava come come è schifato i Grazie a tutti 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 Grazie a tutti